Un'area che si estende per circa 10 ettari e che presto diventerà come un grande campo di calcio. In quell'area oggi c'è quella che rimane dell'ISAF nell'Isola 9, un impianto fermo da più di 20 anni e che produceva acido fosforico. Adesso Eni e Sindial hanno dato il via ad un cantiere per procedere al risanamento ambientale dell'area. Un investimento da 50 milioni di euro. A tagliare il nastro, dove già da ieri lavorano un'ottantina di operai, è stato il presidente della regione, Rosario Crocetta. Noi l'ISAF l'abbiamo con l'Eni smantellato da tanti anni perché era un impianto che era legato alla produzione di acidi, anche di fertilizzanti, tecnologie vecchie e anche in ogni caso di grande impatto ambientale, per questo sono state chiuse. Oggi passiamo a una fase diversa, positiva, che è quella della ripresa recuperando l'ambiente, che è il tema principale. Quindi coniugare il lavoro, l'occupazione che ci sarà per una parte dei lavoratori dell'indotto che cominciano a rientrare in fabbrica e quindi diciamo che anche da questo punto di vista è un segnale importante. Però lo leghiamo non a un astratto progetto di reindustrializzazione come nel passato della città. Lo leghiamo al risanamento ambientale, alla raffineria verde, mi piace parlare in italiano, costituimento comprensibile per tutti, alla raffineria verde, a quegli investimenti che sono compatibili con questa meravigliosa città. Siamo finalmente all'avvio di un importante cantiere per il completamento dei lavori, su cui c'è stata una forte efficienza sia da parte delle istituzioni che della Sindel per l'ottenimento di autorizzazioni su un processo complesso che noi abbiamo inteso accelerare e siamo pronti in pochissimo tempo rispetto all'autorizzazione tenuta ad aprire un cantiere che risolverà un problema critico sul sito di Gela dando rilancio alle attività, dando occupazione mentre vengono eseguite le attività di bonifica e renderà al territorio un'area nell'ambito della raffineria. Con l'avvio delle attività di cantiere immediatamente a valle del completamento dell'iter istruttorio da parte della regione e della prefettura di Caltanissetta il programma di risanamento ambientale entra in una fase fondamentale e si raggiunge un ulteriore importante passo nell'ambito degli impegni assunti con il protocollo d'intesa firmato nel 2014. Ad oggi abbiamo aperto 32 cantieri di cui 14 sono già stati completati. Nel 2016 abbiamo aperto 13 cantieri, pardon 14 perché oggi avremo il piacere e l'onore di aprire uno fra i più importanti, ne rimangono in aprile altri 4. Abbiamo speso dalla firma del protocollo circa 80 milioni soltanto per il risanamento ambientale. Abbiamo avviato i cantieri della Grille Refinery nel mese di aprile e oggi stanno lavorando 250 persone circa. Per cui a livello di occupazione, a livello di progresso nelle attività siamo assolutamente nel rispetto degli impegni. Solo nell'ambito del risanamento ambientale oggi, grazie all'attività dei cantieri, stanno lavorando 250 persone dell'indotto solo nel risanamento ambientale. Rispetto agli impegni che avevamo assunto nel protocollo nel 2016 di 1.200 risorse, la nostra proiezione è quella che ci permetterà di raggiungere le 1.300 risorse nel 2016. Quindi con un contributo addizionale rispetto agli impegni presi.